Nel video precedente abbiamo visto come sia possibile ridefinire il significato di operatori come quello di addizione, rendendo il sistema capace di gestire espressioni in cui si va a utilizzare l'operatore, appunto, in modo naturale. E nello specifico abbiamo reso la classe capace di riconoscere l'addizione tra due oggetti frazione oppure tra un oggetto frazione e numero intero n che viene trasformato al volo internamente nella frazione con denominatore 1 corrispondente. E ripartirei proprio da qui. Il secondo operator consente di fare calcoli di questo tipo, f1 più 3, però anche solo per il contrario le cose non funzionerebbero perché dovendo rispettare l'ordine dei parametri nei metodi operator ci si aspetta per prima la frazione e solo per secondo il numero intero. Chiaro, potremmo definire un ulteriore operator cambiando di ordine prima intenne e poi frazione f1. ma c'è un'altra strada che oltretutto torna, davvero comodissima, anche in altre situazioni tipo poter definire beh, questo per il momento lo commentiamo poi lo riabiliteremo frazione in questo modo intendendo sei primi e snellendo di parecchio la sintassi che prevederebbe in modo più completo assegnare f4 un new frazione sei questo assegnamento viene rifiutato perché chiaramente lui non sa come ricavare in automatico, in modo implicito una trasformazione, una conversione dal numero intero sei alla frazione sei primi ed è proprio qui che andremo ad agire definire conversioni implicite o esplicite implicite lo faremo quando non c'era nessun rischio connesso tipicamente nessuna perda di informazione e la conversione avviene in modo abbastanza naturale sì, forse è meglio mettere come convenzione per primo sempre il modificatore di livello di accesso public static implicit nuova keyword operator e qui non dobbiamo indicare uno di quelli classici più o meno per... no, è un operatore un po' speciale di conversione e allora dovremmo indicare il tipo destinazione operator noi vorremmo che venisse convertita in automatico un'espressione contenente un intero quindi come quel sei giù nel main in una frazione per cui il tipo destinazione nella conversione implicita è frazione vogliamo che un intero sia convertito in modo implicito automatico da compilatore nella frazione corrispondente si parlava di interi quindi in ingresso avremo l'int n anzi è una delle estazioni perfette per utilizzare il più compatto operatore freccia dove a seguire metteremo l'espressione restituita dal metodo risparmiando graffe e return l'espressione una nuova frazione creata c'è già il costruttore che fa per noi partendo da questo numero intero n avete visto con la coda all'occhio non c'è più l'errore ora sa che per dare un significato questo assegnamento c'è la possibilità di trasformare in modo implicito richiamando internamente in automatico questo metodo il sei viene trasformato in sei primi frazione a quel punto può fare l'assegnamento adesso potremmo anche commentare lo lascio perché è comunque interessante questo metodo perché non ce n'è più bisogno ovunque si trovi un numero intero e dove per rendere sensata l'espressione la strada da seguire è tentare di convertirlo e renderlo compatibile con il resto degli operandi con questa frazione F1 in automatico poi bisogna vedere se in qualche situazione questa trasformazione in conversione automatica è per caso pericolosa al che sarebbe stato un errore di impostazione scegliere la strada implicit automatica dicevo la trasformerà in tre primi anche in questa situazione e anche il contrario per lui è la stessa cosa sa trattare ogni operando coinvolto nell'espressione F1 tre mezzi tre sono sei mezzi la somma nove mezzi mentre qualunque intero può essere trasformato in modo implicito in una frazione non sempre è così vediamo dove sarebbe un azzardo scegliere la strada implicita l'appetito viene mangiando e perché non pensare di rendere automatica e implicita anche questa conversione sarebbe effettivamente comodo ma pericoloso proviamo e di per sé la strada è spianata abbiamo già di nuovo il costruttore che accetta una stringa la lavora ai fianchi e genera la frazione questo è l'operator di conversione implicito da stringa frazione ci siamo proviamo a sommare a questo punto al volo F1 più 4 quinti magnifico ma proviamo adesso con questa finta frazione paperino per fortuna avevamo già gestito con l'eccezione quando la stringa non è convertibile correttamente in una frazione e vedete che poi effettivamente capita proprio questo eccezione con stringa non è formato numero fratto numero numero ma se non avessimo protetto la classe come abbiamo fatto e qui ci troveremo di fronte in una situazione dove una conversione implicita automatica senza un consenso esplicito del programmatore insomma potrebbe risultare un po' troppo rischiosa forse è meglio rendere la cosa esplicita dove servirà una parte più attiva da parte del programmatore che si assuma responsabilità di quello che sta comandando improvvisamente questo non viene più accettato il messaggio è esplicito non è possibile convertire in modo implicito il tipo string in una frazione insomma però al presente una conversione esplicita quella che abbiamo appena modificato probabilmente manca un cast ecco cosa vuol dire attivare una conversione esplicita dimmelo tu con certezza che vuoi fare proprio questo se tu mi dici che la stringa quattro quinti può essere convertita in una frazione ok siccome c'è effettivamente un operatore che lo fa che richiede la tua conferma procedo poi se proprio sei tu che ti vuoi cercare i guai confermano anche qui con un paperino ma sono cavoli tuoi non è colpa della classe è colpa tua che le stai usando male tirando un po' le somme non è che sia meglio implicito esplicito dipende dalla situazione e dalla natura intrinseca dei dati che si vuole convertire se proprio proprio volessimo dare una linea guida generale visto che la connessione implicita nasconde qualcosa e potenzialmente aumenta un po' il rischio usatene il meno possibile e implementateli solo per tipi semplici io ho finito anche questo video ma ancora ho da dire riguardo gli operator a risentirci